Buongiorno, appena finito Liverpool-Barley, che dire, partita sulla carta semplice, tra virgolette, diventata abbastanza difficile a causa di una serie di colpi di culo, classica squadretta, Barley è oggi classica squadretta che è venuta qui con nient'altro se non il culo, ma che stava per bastare anche avanzare. Il primo gol è un qualcosa di allucinante, lo scazzone del Barley batte un carcio d'angolo alla Puskas, perché chiaramente quando giochi con Liverpool non sei più lo scazzone del Barley, ma sei Ferenc Puskas, direttamente in porta, Alisson per dire la verità ci sarebbe anche arrivato, fallo su Alisson, non ravvisato, quindi gol di quelli, il classico gol che si fa a Liverpool, colpo di culo, fallo, errore arbitrale, gol. Per fortuna è arrivato subito, anzi forse anche meglio, ci ha fatto bene, perché ci ha immediatamente svegliato, infatti di lì a 10 minuti arriva il pareggio e altri 10 minuti arriva il 2-1. Tarto gol anche abbastanza, specialmente il secondo, anche abbastanza bello. Di Mané con questo destro a giro. Da notare che sul gol di Mané ci sarebbe, se non avesse fatto gol, ci sarebbe stato rigore nettissimo su Salah, poi chiaramente la palla va subito in porta, grazie al tiro di Mané, quindi inutile dare rigore. Mi sarebbe piaciuto vedere se avessero dato il rigore, comunque. Per fortuna non abbiamo avuto bisogno di scoprirlo. Secondo tempo che prosegue sull'andazzo del primo, con Liverpool che fa nettamente la partita, tant'è vero che poi arriva anche il 3-1. Partita virtualmente chiusa, se non fosse che al 98esimo, chiaramente tocco in aria del giocatore del barley, tocco completamente inefficace, se non che sbatte due o tre volte su Penzo, perché ha velocissimo sul corpo di due giocatori del Liverpool, ta-ta, fa tipo flipper, e schizza subito sui piedi di un giocatore in mezzo all'area del barley, che poi serve comodamente il suo compagno libro che insalca, e da lì non può sbagliare. Cose, cose, cose. Per fortuna, per fortuna, tra l'altro stavano anche cominciando ad attaccare, e quindi si profissava il solito pareggio del cazzo all'ultimo secondo. Mi ricordo quello che quando perdemo l'ultimo titolo, l'anno dello scivolone di Gerard, quando sul 3-0 poi pareggiamo 3-3 col Crystal Palace, con questi qui che fece un tiro, tre golle, inciampavano un'area, a palla li batteva nel muso e andava in porta, cose da darti tempi. Oggi stranamente abbiamo vinto, abbiamo vinto anche bene, perché poi a differenza reti pareggiamo il 3-1 di ieri del City, noi facciamo 4-2, gol finale di Manet che chiude i discorsi. Poteva essere un 4-0, poteva essere anche un 5-0 volendo. Certo che se l'andazza è questo, che se per ogni squadra che arriva, colpi di culo a destra e a sinistra, traversano in pazzesca di Manet nel secondo tempo, chiaramente, in una partita del genere, un palo o una traversa non possono mancare mai. L'unico fatto positivo è che, quantomeno vinciamo, il problema è che è il City che non perde punti e questi colpi di sfiga capitassero anche al City. Cosa ne so, pareggiano a cazzo con Barley in casa, lasciando che Barley un mesetto fa ha giocato proprio contro il City, 5-0 per il City. Barley è altra squadretta che sta facendo di tutto, come l'Everton, anche normale, perché sono loro. Altra squadretta che si sdraia quando passa il City, si inchinano, si buttano la palla in porta da se soli, poi arriviamo a noi e quello che fa gol da calcio d'angolo, che è il gol irregolare perché è viziato da da un fallonetto, non l'avvisato, ma fatto sta che questo ha fatto gol da calcio d'angolo. Un gol fa in carriera, un calcio d'angolo batte in carriera, fa gol, ma comunque qualcuno un giorno mi dovrà spiegare il perché di tutto ciò. Sapete che io quasi mai parlo di sfiga o di arbitri, oggi l'arbitro per la verità ne ha anche un aumento, visto che si è netto l'errore sul primo gol, però poi non è che abbia fatto il culo del Barley di oggi è è pazzesco. Se non avevamo Firmino e Mané in forma non la vincevamo oggi la partita, oggi si perdeva il titolo, se non era perché Firmino e Mané tutti i palloni che gli sono capitati davanti l'hanno praticamente insaccati, noi oggi la corsa al titolo era finita, perché se ci andava bene si pareggiava, si rimaneva a meno 3 di Dar City, probabilmente col culo di questi figli di puttana si perdeva anche, si rimaneva a meno 4 e la corsa al titolo era in ognuno dei due casi finita. Quindi ci va bene tra le altre cose che Firmino e Mané erano in ultra forma e sono riusciti a sfruttare tutte le occasioni al momento giusto, rendendoci la partita gestibile e dandoci 3 punti. Comunque fatto sta che Firmino e Mané il City arriva a giocare col Watford, gioca bene, vince giustamente, il Watford fa anche un gol anche discreto, ma senza tanti scossoni, noi si gioca col Barley in casa, questi non toccano un pallone, fanno due golle. Fatto sta che questo è l'andazzo, comunque non ci arrendiamo, siamo a meno uno, il City tutte non le potrà vincere, il problema è che non le potremo vincere tutte e anche noi, si spera che a un certo punto ne toppino una la giornata che noi casamane vinciamo una e si possa, perché mancano 8 partite e la situazione si inizia a fare critica. Comunque noi a meno un punto non ci arrendiamo, non possiamo arrenderci, non c'è ragione per cui bisogna arrenderci, si tira avanti come abbiamo sempre fatto nella nostra storia e si cerca di, chissà, se Gesù un giorno emigra in un'altra galassia forse capace nelle prossime partite andremo ancora meglio e chissà, forse potremo sfruttare un eventuale passo farso del City. Ci vediamo al prossimo video e sempre forza Liverpool, ciao!